In questo video vedremo come utilizzare le espressioni regolari per modificare le stringhe, poi faremo conoscenza con il modificatore G, impareremo a creare delle sostituzioni non distruttive ed infine capiremo quale ordine di precedenza viene applicato tra metacaratteri nelle espressioni regolari. Buona visione! Fino a questo momento ci siamo limitati a utilizzare le espressioni regolari per individuare sequenze semplici o composte all'interno di una stringa. Come ormai ben sappiamo, di default le espressioni regolari nel Perl utilizzano l'operatore di matching, quindi se non specifichiamo esplicitamente un operatore diverso, l'interprete considererà la nostra espressione regolare come espressione di matching. Quindi, se come in questo caso si vuole utilizzare la nostra espressione regolare in modalità sostituzione, è necessario sempre specificarne l'operatore. Per le operazioni di sostituzione l'operatore da specificare è l'operatore S. Come funziona un'espressione regolare di sostituzione? Molto semplice. Partendo da sinistra dell'espressione regolare, la prima sequenza che si incontra è quella che deve essere individuata all'interno della stringa. In gergo, questa sequenza viene chiamata sequenza di matching. Dopo la sequenza di matching troviamo il delimitatore che stabilisce la fine della sequenza di matching e l'inizio della sequenza di replace. Come dice il nome, la sequenza di replace è la sequenza che viene utilizzata per sostituire la parte della stringa individuata dalla sequenza di matching. Ma diamo un'occhiata all'esempio per capire meglio. Cosa facciamo nell'esempio? Si utilizza un'espressione regolare di sostituzione sulla variabile frase sostituendo la sequenza Mario con la sequenza Luigi. Quindi, cosa succede dietro le quinte? L'espressione regolare cerca all'interno della stringa contenuta nella variabile frase la sequenza di matching specificata, ovvero Mario. Una volta trovata, si effettua la sostituzione della parte della stringa corrispondente con la sequenza di replace, ovvero in questo caso con la sequenza Luigi. Come potete vedere dall'output, la variabile frase contiene ciao Mario prima di effettuare l'operazione di sostituzione, mentre dopo l'operazione di sostituzione contiene ciao Luigi. Da ciò possiamo stabilire che la nostra operazione di sostituzione è andata a buon fine. Altro esempio. A questo giro si utilizza un'espressione regolare di sostituzione per scambiare la posizione di due sequenze all'interno di una stringa. Analizziamo la nostra espressione regolare. Cerca corrispondenza con la sequenza gruppo di cattura composto da almeno una word, poi spazio ed infine altro gruppo di cattura composto almeno da una word, trovando così corrispondenza con la parte della stringa grande spazio grosso. Una volta trovata corrispondenza cosa succede? Si sostituisce la parte della stringa corrispondente con la sequenza variabile di cattura 2 spazio variabile di cattura 1, ovvero con la sequenza grosso spazio grande, andandone così ad invertire le posizioni. Infatti in output abbiamo la stringa grande, grosso e verdone stampata prima dell'operazione di sostituzione e grosso, grande e verdone stampata dopo l'operazione di sostituzione. In questo nuovo esempio si utilizza la nostra espressione regolare di sostituzione per aggiungere la sequenza oggi all'inizio della stringa contenuta nella perl favorite default. Come vedete si utilizza l'ancora di inizio stringa come sequenza di matching e la sequenza oggi più spazio come sequenza di replace. Da notare inoltre la possibilità anche utilizzando espressioni regolari di sostituzione di omettere il binding operator quando si sta lavorando sulla perl favorite default. Quindi cosa succede quando viene valutata l'espressione regolare? Viene trovata corrispondenza con l'inizio della stringa e viene, in questo caso è più corretto dire aggiunta anche se tecnicamente si tratta a tutti gli effetti di una sostituzione, la sequenza oggi. In output troviamo infatti la stringa è proprio una bella giornata stampata prima dell'operazione di sostituzione e la stringa oggi è proprio una bella giornata stampata dopo l'operazione di sostituzione. È inoltre importante sapere che pure le espressioni regolari di sostituzione restituiscono un valore booleano di ritorno, ovvero true se l'operazione è andata a buon fine, altrimenti in caso contrario false. Nell'esempio si sfrutta il valore di ritorno dell'espressione regolare per stabilire se l'operazione di sostituzione è andata o meno a buon fine. Quindi se l'espressione regolare di sostituzione contenuta nel blocco if restituisce true, quindi se l'operazione di sostituzione va a buon fine, si stampa in output la stringa operazione eseguita con successo, altrimenti si stampa in output operazione fallita. Infatti se eseguiamo lo script abbiamo in output operazione eseguita con successo e successivamente il contenuto della Perl Favorite Default modificato dall'espressione regolare, ovvero ciao Luigi. Se per riprova si modifica la sequenza di matching in modo tale da far fallire la corrispondenza e quindi di conseguenza la sostituzione e si riesce il tutto, come previsto abbiamo in output operazione fallita e la stringa contenuta nella Perl Favorite Default che, come vedete, resta ovviamente inalterata. Le espressioni regolari di sostituzione sono di default single match, ovvero si limitano a sostituire solamente la prima corrispondenza che incontrano all'interno di una stringa. Nell'esempio si cerca corrispondenza con la sequenza casa nella stringa contenuta nella Perl Favorite Default sostituendola con la sequenza pace. Guardate cosa succede se si segue lo script. Abbiamo in output pace dolce casa. Questo accade poiché durante la valutazione dell'espressione regolare partendo da sinistra della stringa si trova immediatamente corrispondenza con la sequenza casa. Quindi viene effettuata la sostituzione con la sequenza pace e restituito true, terminando di conseguenza la valutazione dell'espressione regolare e lasciando quindi inalterata la sequenza casa che si trova alla fine della stringa. Per risolvere il problema dobbiamo utilizzare il modificatore G. Il modificatore G fa in modo tale che la valutazione dell'espressione regolare non venga interrotta prima della fine della stringa rendendo così la nostra espressione regolare di sostituzione multi match. Infatti se rieseguiamo lo script stavolta abbiamo in output pace dolce pace. Poiché, come abbiamo detto, grazie al modificatore G la valutazione dell'espressione regolare non viene interrotta alla prima corrispondenza. Anche le espressioni regolari di sostituzione consentono di definire dei delimitatori personalizzati. Nell'esempio si utilizza il trattino come delimitatore al posto del classico backslash e come vedete è tutto perfettamente lecito. L'operazione di sostituzione viene ugualmente portata a termine. Inoltre, se ve lo state chiedendo, i modificatori che abbiamo imparato ad utilizzare restano perfettamente validi anche se utilizzati in un'espressione regolare di sostituzione. Infatti, grazie al modificatore X riusciamo a formattare al nostro piacimento il contenuto dell'espressione regolare, mentre il modificatore I, come sappiamo, rende l'espressione regolare case insensitive. Quindi non dobbiamo preoccuparci di rispettare maiuscole e minuscole per trovare corrispondenza. Proviamo ad eseguire lo script e infatti abbiamo la stringa nome Arsenio, cognome Lupin, prima dell'operazione di sostituzione e la stringa nome Daisuke, cognome Shigen, dopo l'operazione di sostituzione sulla variabile personaggio. Tutto liscio come l'olio. Come avrete sicuramente notato, utilizzando le espressioni regolari di sostituzione si va inevitabilmente a sovrascrivere il valore della variabile sulla quale stiamo lavorando e questo a volte può essere un problema. Nell'esempio dobbiamo trovare il modo di preservare il valore della variabile pin prima dell'operazione di sostituzione per poi riutilizzarla in seguito per stamparla in output. Per riuscire nell'impresa dobbiamo utilizzare una sostituzione non distruttiva. Per utilizzare questa tecnica bisogna innanzitutto creare una variabile copia dove copiare il valore originale della variabile da modificare. Poi assicurarsi che prima venga eseguita l'assegnazione del valore originale alla variabile copia racchiudendo l'operazione di assegnazione tra parentesi tonde ed infine effettuare la sostituzione. In questo modo abbiamo così la variabile nuovo pin che è la variabile copia della variabile pin da utilizzare nell'operazione di sostituzione al posto della variabile pin e infatti abbiamo in output la stringa vecchio pin 1 2 3 4 ottenuta stampando la variabile pin e la stringa nuovo pin 5 6 7 8 ottenuta stampando in output la variabile nuovo pin. Comunque sia se trovate complicata o poco chiara la tecnica della sostituzione non distruttiva potete utilizzare un approccio più easy come nell'esempio ovvero dividere su due righe i passaggi di copia e di sostituzione. A voi la scelta. Prima di salutarci vi volevo parlare di un argomento che mi sono dimenticato di portarvi nella lezione precedente ovvero le precedenze tra metacaratteri in un'espressione regolare. Vi ho preparato questa tabella per mostrarvi con più precisione l'ordine di precedenza tra metacaratteri in un'espressione regolare. Questa tabella va letta dall'alto verso il basso e più in alto si trova un metacarattere maggiore sarà la sua precedenza. In posizione 1 i metacaratteri aventi assoluta precedenza sugli altri ovvero le parentesi sia di cattura sia di non cattura sia cattura nominativa. In posizione 2 troviamo i quantificatori mentre la posizione 3 è occupata dalle ancore e dalle sequenze. È infatti importante sapere che all'interno di un'espressione regolare una sequenza viene considerata un operatore vero e proprio anche se non vi è presente alcun tipo di metacaratteri. Proseguendo troviamo in posizione 4 il metacarattere di alternazione ovvero la barra verticale ed infine in quinta ed ultima posizione i metacaratteri con precedenza più bassa ovvero gli atomi. Vengono classificati atomi i singoli caratteri, le classi di caratteri, gli shortcut delle classi di caratteri e i back reference. Vi ho cucito questo esempio su misura per mostrarvi quanto possa influire una cattiva valutazione delle precedenze tra metacaratteri in un'espressione regolare. Cosa stiamo cercando di fare nell'esempio? Stiamo cercando semplicemente di stabilire se la variabile animale contiene la sequenza gatto o la sequenza pesce. Però considerando che la variabile animale contiene la stringa gatto pesce si suppone che non venga trovata alcuna corrispondenza poiché la nostra espressione regolare parla chiaro inizio stringa sequenza gatto o sequenza pesce fine stringa. Ma guardate un po' cosa succede se eseguiamo lo script. Abbiamo in output corrispondenza trovata. Vediamo cosa è successo. Aiutandoci con la nostra tabella possiamo notare che le ancore di parola e le sequenze hanno maggiore precedenza rispetto alle alternazioni. Alla luce di ciò il significato della nostra espressione regolare cambia completamente. La lettura corretta dell'espressione regolare è dunque la seguente. Inizio stringa sequenza gatto o fine stringa sequenza pesce. Quindi si troverà corrispondenza con qualsiasi stringa che inizi con la sequenza gatto o che termini con la sequenza pesce anziché individuare la sequenza inizio stringa sequenza pesce o sequenza gatto fine stringa. Per riprova possiamo provare a modificare la stringa contenuta nella variabile animale da gatto pesce a gatto pesce volante e rieseguendo lo script abbiamo comunque corrispondenza trovata perché la stringa inizia con la sequenza gatto rispettando quindi le attuali condizioni di matching. Per riuscire nel nostro intento dobbiamo racchiudere l'alternazione delle sequenze tra parentesi tonde che avendo quest'ultime la precedenza più alta in assoluto consentono di applicare l'alternazione in modo corretto. Ora sì che ci siamo. In questo modo cerchiamo corrispondenza con la sequenza inizio stringa sequenza gatto o sequenza pesce fine stringa. E stavolta eseguendo lo script abbiamo in output nessuna corrispondenza trovata e sostituendo gatto pesce con gatto abbiamo finalmente corrispondenza trovata. Funziona tutto come desiderato. Bene e anche per questa lezione è tutto. Vi lascio come di consueto il link per scaricare gli esercizi in descrizione. In caso di dubbi o domande vi invito invece a lasciare un commento. A risentirci.